Bene, bentrovati a tutti, cominciano qui le trasmissioni in diretta di TV Radicale, un esordio di TV Radicale che abbiamo voluto definire è il numero zero di TV Radicale, proprio perché servirà a collaudare a tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, a organizzare in un certo qual modo anche quello che sarà il lavoro che porteremo avanti nelle prossime settimane. Intanto saluto tutti coloro che sono nella chat, io mi presento, io sono Roberto Mancuso, militante radicale, faccio parte anche del Comitato Nazionale di Radicali Italiani, ma sono la persona che insieme ad altre persone, a altri, soprattutto militanti radicali, ha dato avvio a questo progetto. Il progetto della WebTV, prima di andare nei dettagli e vedere quello che sarà il palinsesto di oggi, si basa essenzialmente a questo progetto su un principio cardine, quello del fare del militante radicale ignoto o anonimo e il centro dell'iniziativa politica militante online. attraverso gli strumenti che offrono le nuove tecnologie. Chi di voi non dispone di un collegamento a DSL, chi di voi non può utilizzare Skype, sono strumenti che ormai sono alla portata di tutti. Chi di voi ancora non ha a disposizione una videocamera per poter fare magari delle interviste ed essere lui stesso il primo produttore di contributi audio-video per la WebTV. È chiaro che è una fase sperimentale molto diversa dalla sperimentazione che, pur con ottimi risultati, fu portata avanti in occasione della campagna elettorale delle regionali. Saluto tutti quelli che si trovano in chat. Ricordo Antonio Borrelli che è presente, americano, Laura79 ci ha raggiunto, Gianni eccetera. C'è anche Silvia, quindi stanno cominciando ad aumentare piano piano i nostri telespettatori. Allora, prima dell'inizio di queste trasmissioni abbiamo fatto varie prove tecniche e abbiamo visto che tutto dovrebbe andare bene. Se qualcosa non andrà bene, chiaramente è perché ci appoggiamo ancora per il momento sulla piattaforma freeidilivestream.com che sono i server attraverso i quali trasmettiamo. Al momento abbiamo una banda limitata, nel momento in cui riusciremo a strutturarci e a darci anche un'organizzazione magari associativa o di altra natura e saremo in grado anche di autofinanziarci, cioè di chiedere contributi per finanziare questo progetto. Perché questa idea? Perché partire dal radicale ignoto, radicale anonimo? Beh, io a questo proposito spesso racconto un aneddoto risalente a qualche anno fa. Negli anni 90, in piena tangentopoli, durante l'epoca di Mani Pulite, vi era un personaggio televisivo, a me molto caro, oggi purtroppo defunto, che si chiamava Gianfranco Funari, il quale aveva una trasmissione che in un certo senso rivoluzionò quelli che erano gli organigrammi politici presenti nei contenitori televisivi. Per la prima volta Gianfranco Funari dava spazio a tutti e tra questi tutti vi erano anche i radicali. Bene, in una delle sue puntate, tra i suoi ospiti, Gianfranco Funari aveva Vittorio Pezzuto, che allora era segretario, oggi benvoluto giornalista, benvoluto giornalista, allora era segretario del movimento del Club Pannella Riformatori. Bene, Gianfranco Funari entrò, vi era, diciamo, questo studio molto grande, al centro del quale vi era uno sgabbello con una pedana, sopra lo sgabbello vi era Vittorio Pezzuto e Gianfranco Funari, dopo aver fatto il classico e, conoscerete tutti, spot sulla mortadella, si avvicinò a Vittorio Pezzuto annusandolo da capo a piedi e girandogli attorno e a un certo punto disse ah, che bel profumo di Pulito. Bene, io penso proprio che quello che i radicali devono fare è essere capaci di farsi annusare, cioè il singolo radicale, con la sua storia, con la sua storia anche di militanza, delle volte storiche più o meno recente, deve farsi annusare, deve farsi conoscere, deve condividere le proprie idee con tutti quanti, quelle persone che possono, che potrebbero condividere con i radicali un tratto di strada per tutte le battaglie o anche solamente per una singola battaglia. Quindi il centro di questa iniziativa politica online, che è TV Radicale, sganciata chiaramente, è un'iniziativa che parte dal basso, quindi parte da un gruppo di militanti radicali che si sono, un gruppo assolutamente aperto, che si sono messi insieme con l'idea e la voglia di provare e sperimentare questa nuova forma di comunicazione e non ha assolutamente nessun collegamento diretto con il partito del movimento per il momento né tantomeno con Radio Radicale, ma vuole essere un'iniziativa che parte dal basso, che si organizza dal basso per poi evidentemente servire l'iniziativa politica. Dicevo prima, sperimentazione questa molto diversa da quella che fu portata avanti in piena campagna elettorale. Ricordiamo che allora i tempi erano molto stretti perché il primo febbraio cominciarono le trasmissioni e furono inaugurate proprio da un'esclusiva che la Web TV Radicale, allora così si chiamava, riuscì ad avere, grazie a Roberto Granese e Gaetano Dentamaro, che per primi riuscirono a fare, e per uni fu il fumo isolio, a riuscire a fare la diretta dell'inaugurazione del comitato elettorale per Emma Bonino, presidente della regione Lazio. Allora non vi fu il tempo di sperimentare nulla e partimmo proprio in maniera assolutamente piratesca e fumo molto fortunati anche perché alla fine tutto andò quasi bene. Invece questa volta vogliamo concederci più tempo, non c'è, come direbbe Antonella Dentamaro, che è un'altra delle persone che collaborerà a questo progetto, il mainstream della campagna elettorale, ma abbiamo molto più tempo durante tutta questa estate per organizzarci. Allora, e quello che c'è da dire è questo. Quale sarà, diciamo, quindi noi partiamo con un profilo molto basso e il nostro obiettivo è riuscire ad organizzare nel primo mese di programmazione innanzitutto una trasmissione settimanale, la domenica, con una diretta di otto ore. Quindi tutte le prossime domeniche di luglio, che sono il 25 luglio prossimo e poi nelle cinque domeniche di agosto, quindi le prossime cinque domeniche, vedrete sempre, ci vedrete in diretta la domenica per otto ore. Questo a meno che non decideremo per tutti insieme di modificare il giorno. Ecco, questo in estrema sintesi è quello che è l'idea, il progetto di TV Radicale. Intanto vedo che la chat comincia a popolarsi, e saluto tutti coloro che sono in chat. Prima di però passare alla lettura del parinzesso di oggi e, scusate un attimo, e anche passare al primo intervento, al primo ospite che avremo, che è Andrea Triscioglio, dirigente nazionale, facente parte del Consiglio Generale dell'Associazione Luca Coscioni, e apriamo subito le domande alla chat. Ecco, la cosa che assolutamente TV Radicale avrà sempre e non perderà mai sarà la continua interazione con coloro che stanno in chat. Come spesso dicevo durante le trasmissioni di Web TV Radicale, chi fa TV Radicale sono le stesse persone che la seguono. La comunicazione è bidirezionale e questo carattere della bidirezionalità della comunicazione non deve essere perso, non deve essere esautorato. Quindi io mi rivolgo subito brutalmente a chi è in chat per chiedere se mi sono delle domande e anche per chiedere rassicurazioni sulla qualità della trasmissione. Allora, vediamo un po' cosa viene scritto in chat. Antonio Borelli scrive Pannella stanzia quello che c'è da stanziare per avere uno studio e una scenografia adeguata. Oh, Antonio, che c'è da dire contro la mia bellissima scenografia? Ci sono tutte le bandiere delle radicali, quasi tutte, quelle in mio possesso almeno ci sono. E poi continua Antonio oltre ad una redazione di elaborazione dei contenuti è uno, eccetera, eccetera. Roberto ci dice in bocca al lupo compagni, Claudio Scaldaferri, ciao da Claudio Scaldaferri, Antonio Borelli continua con sviluppo tecnico, questa è una novità rivoluzionaria davvero efficace, speriamo che lo sia. Salutiamo anche Gianni, che saluta Claudio e vediamo se ci sono delle domande. Dunque, Zorro ci dice adesso è il segnale continuo ma all'inizio era frammentario. E sì, in effetti abbiamo con Zorro, avremo questo problema ancora per qualche giorno fino a quando non... Gilla! Abbiamo Gilla, ragazzi! Salutiamo Gilla, io le devo tirar le orecchie. La mitica Virginia Fiume è collegata con noi in chat. Quindi voi sapete che è Virginia Fiume e con lei che è stata capace, che ha avuto due palle così in tutti i sensi, da portare avanti il progetto di TV Radicale, alla quale però devo tirare le orecchie perché a me sarebbe piaciuto che questa conduzione partisse proprio anche con la partecipazione di Virginia. E invece lei è latitante. Gilla, lo facciamo un collegamento al volo su Skype? Gilla, mentre aspettiamo la risposta di Gilla, vediamo intanto quelli che sono gli appuntamenti che sono previsti durante la giornata. Allora, cominceremo alle 11.30 o anche qualche minuto prima perché si è aggiunto al collegamento con Andrea Triscioglio anche un altro collegamento con il presidente dell'associazione PIC, associazione pazienti in pazienti cannabis e si tratta di Alberto Sciolari. Quindi magari ristringiamo il tempo di questa introduzione e mi seguo in chat un pochino. Grazie Gilla, sai com'è l'apri bottiglia? Ma questa è una storia che conosciamo solamente io e Gilla, quella dell'apri bottiglia. Ho nostalgie di quelle bottiglie che non riuscivamo ad aprire Gilla. Vabbè, di questo sanno poco chi sta in chat però insomma magari un giorno ne parleremo. Allora, dicevo le trasmissioni. Alle 11.30 o anche un po' prima come dicevo prima parleremo di cannabis terapeutica e antiproibizionismo parleremo di quello che ormai è definito dalla stampa il caso Andrea Triscioglio il quale ci racconterà quello che gli è accaduto come gli è successo parecchie volte nel corso delle ultime settimane ancora una volta riepilogherà con noi quello che gli è accaduto chiaramente aspettando anche le domande della chat. Poi avremo sempre da Andrea il resoconto sulla conclusione del Consiglio Generale dell'Associazione Luca Coscioni che si è svolto nei giorni precedenti a Roma e ancora analizzeremo un caso quello del ginecologo che va in ferie e in Puglia c'è un solo ginecologo che non è obiettore di coscienza e che può somministrare prescrivere la RU486 e che quando va in vacanza di fatto il diritto viene legato il diritto alla salute ai pazienti. Parleremo sempre con Andrea della collaborazione con altre associazioni sempre sul tema della cannabis terapeutica. Allora subito dopo alle 12.30 l'abbiamo già detto il collegamento che avremo con Alberto Sciolari Presidente di PIC dell'Associazione Pazienti e Pazienti Cannabis alle 12.30 invece andremo ci sposteremo da Foggia a Cosenza e avremo un collegamento con la Calabria con Marco Marchese che è il segretario dell'Associazione Calabria Radicale con lui parleremo di una discarica che pare insomma non voglio raccontare la fine però pare che alla fine si sia per far fuori insomma per ripulire e soprattutto la cosa più importante Marco oltre ad aggiornarci su quelle che sono le iniziative dell'Associazione Radicale Calabrese soprattutto ci farà una importantissima rassegna stampa come dice lo stesso Marco ragionata sulla cosiddetta operazione crimine quell'operazione di polizia che ha portato pochi giorni fa al fermo di 304 persone presunte affiliate all'Andrangheta residenti tra Lombardia e la Calabria vediamo se intanto dalla chat vi sono altre sollecitazioni non per il momento siamo pochini ma non ci dispiace essere pochini siamo 22 in questo momento seguirà alle 13 lo spazio con Silvana Bononcini che oltre ad essere una militante radicale storica è anche tra le animatrici dell'associazione di Benedetto della Vedova Libertiamo questo perché vogliamo che TV Radicale sia un open space aperta a tutte le realtà associative anche e soprattutto a chi la pensa diversamente dai radicali proprio per permettere per consentire di avere un momento di confronto e quindi di crescita per tutti quanti quindi con Silvana Bononcini parleremo tra le 13 e le 13.30 dell'associazione Libertiamo tra le 13.30 e le 14 vi è uno spazio che abbiamo intitolato Disabile Chi dedicato proprio alle problematiche della disabilità della cosiddetta disabilità quindi parleremo di barriere architettoniche di assistenza sanitaria questo spazio si svilupperà con due interventi quello di Gianni Colacione che è un militante radicale romano e con John Fischetti che fa parte del movimento per la vita indipendente movimento per la vita indipendente esattamente allora a questo importantissimo appuntamento seguirà poi una novità una cosa di cui spesso avevamo parlato io e Salvatore Antonaci che molti di voi probabilmente conosceranno su su ah sì leggo un po' un attimo le domande dalla chat americano già comincia con le domande americano ti risponderò dopo e intanto Andrea mi chiama un attimo solo che lo chiamiamo un attimo solo Andrea un attimo solo in diretta succede tutto è un happening in continuo ragazzi allora stavo leggendo il pari in sesto quindi Disabile Chi collegamento con Gianni Colacione e John Fischetti rassegna stampa di Salvatore Antonaci con anche la mia presenza la rassegna stampa internazionale curata da Salvatore Antonaci poi tra le 15 e le 16 avremmo ospite il collegamento Sergio Rovasio il quale ci parlerà di tutte le iniziative passate presenti e future della associazione radicale certi diritti e seguirà tra le 16 e le 16.30 il collegamento con le Marche collegamento con Matteo Mainardi che è il presidente dell'associazione Radicali Marche e tra le 16.30 e le 17 vado velocemente vi sarà una conduzione fatta sempre da me e da Salvatore Antonaci con Marco Gentili in collegamento da Trieste il tema affrontato sarà quello della Web TV e dintorni a questo proposito voglio dire che questo è un palinzesto di massima e sarà sempre possibile avere altri collegamenti all'interno infatti altri ne abbiamo preannunciati li abbiamo preannunciati con Antonio Borrelli e in futuro dalla prossima trasmissione avevamo pensato di ritagliare proprio uno spazio in cui rendere possibile a chi è presente in chat l'interazione direttamente con un collegamento via Skype siamo quasi alla fine del palinzesto alle 17 ci permettiamo di fare concorrenza alla bellissima conversazione settimanale Pannella Bordin con un confronto tra Salvatore Antonaci e Leonardo Facco sul tema del libertarismo libertarismo ed intorni Leonardo Facco che è diciamo l'editore della casa editrice appunto omonima Leonardo Facco editore casa editrice bene merita grazie alla quale molte pubblicazioni di autori del cosiddetto libertà libertarismo oppure da Rothbard da molti altri sono stati pubblicati in Italia altrimenti non sarebbero stati tra le 18 e le 18.30 questo è un appuntamento però da verificare avremo un collegamento con Domenico Murrone che è giornalista del Sole 24 Ore e anche redattore dell'ADUC il quale ci parlerà proprio la rubrica intitolata qui ADUC faremo il punto su quelle che sono le iniziative che porta avanti l'ADUC l'associazione per i diritti e gli utenti dei consumatori il parincesto per la giornata di oggi si chiuderà alle 19 e quanto avremo tra le 18.30 e le 19 qui in Medio Oriente con Dimitri Buffa me stesso e Salvatore Antonaci ci ho detto ritorniamo un attimo in chat prima di stabilire il collegamento con Andrea Triscioglio americano mi fa un innanzitutto Antonio Bari dice pochini in chat sì ci sono 22 telespettatori però in chat non è male il fatto di avere già queste poche persone queste poche persone in chat perché insomma innanzitutto siamo più sicuri che reggono i server e in secondo luogo in secondo luogo soprattutto abbiamo la possibilità di testare in varie fasce orarie quante persone riescono a stare collegate allora americano invece che io ricordo per le sue domande sempre pungenti mi fa questa domanda ciao Roberto come giudichi questa notizia Anza Palermo 18 luglio poche persone meno di un centinaio hanno partecipato al corteo per ricordare Paolo Borsellino 18 anni della strage di Via D'Amelio ma come giudico questa notizia diciamo che le commemorazioni ti dico quella che è la mia opinione ovviamente nell'opinione di un militante radicale che è comunque sempre un'opinione importante a mio avviso da tenere in considerazione la mia opinione è che le commemorazioni sono sempre importanti però se le commemorazioni sono fatte semplicemente per fare consentire la stilata politici o monsignori di turno allora forse meglio sarebbe fare meno commemorazioni e magari mettere in campo iniziative più stringenti per la lotta alla mafia ci ho detto tutto il rispetto per Paolo Borsellino per Giovanni Falcone per gli agenti che furono la mole di Falcone gli agenti che furono uccisi nei due attentati di 18 anni fa ma veramente io ritengo che se meno si pensasse a fare delle commemorazioni e più si facesse per veramente dare un colpo secco e sapete insomma noi radicali riteniamo che ad esempio l'antiproibizionismo potrebbe essere una delle chiavi per dare proprio alle radici un colpo netto a tutte le associazioni mafiose che hanno proprio dagli introiti della droga oltre che da altre cose ma soprattutto dalla droga i loro maggiori introiti allora Gilla allora non ce la fa ad ascoltare Dimitri Buffa sì Antonio è vero ci sono pochino in chat ma ci sono altri che guardano e infatti Paolo Zorutti dice più partecipazioni meno commemorazioni in certo senso siamo d'accordo con Paolo allora sono le 11.22 io proporrei a questo punto di procedere al collegamento prima con Andrea Triscioglio intanto se mi rassicurate sempre siamo arrivati a 23 siamo live e stiamo registrando tutto tutto quello che stiamo facendo sarà poi reso disponibile sul sito www.tvradicale.it in modalità on demand e ci ho detto visto che ci siamo prima di stabilire il collegamento con Andrea Triscioglio vorrei farvi vedere il sito un attimo solo che ve lo faccio vedere apriamo lo zoom se adesso si impalasse il Mac tutto quello che io dico a favore del Mac sarebbe disperso allora apriamo lo zoom questo è il sito dtvradicale come vedete è un sito molto semplice essenziale è nato da pochissimi giorni già vi sono molti utenti registrati io vi consiglio veramente di registrarvi è un'operazione molto semplice come vedete sulla destra trovate scritto accesso utente più in basso crea nuovo profilo basta cliccare su crea nuovo profilo e scegliere un nome utente inserire un indirizzo email cliccare su crea nuovo profilo e dopodiché si riceve un messaggio di posta elettronica e un link al quale bisogna rispondere cliccandoci sopra naturalmente si clicca su questo link e si accede ad una pagina visitabile una sola volta nella quale potete modificare un'altra parte